neanche i piatti ti vogliono dai vieni qua vieni qua un applauso guardate che bello che lo sei meritato Winona Ryder il più bello dei nanomorostil e qua è proprio il momento più triste della mia carriera Winona Ryder dimmi che cos'è la cosa che ti piace di più del cetriolo la durevolezza 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 guarda quanto non è durevole guarda ora lo possiamo usare insieme come si fa a non amarlo Winona Ryder two girls one cucumber allora sì lo so si deve caricare il programma allora mentre Winona Ryder riaccende il Mac te lo dico io cos'è la cosa più bella del cetriolo è che è buono qui cioè depravati sanno dov'è buono io lo dico lo stesso perché è da copiù ed è buono qui Cepriolo buono suiissimo Cepriolo organismo geneticamente richissimo Cepriolo Cepriolo il resistente per mente scolgibulissimo Cepriolo cristiano Cristiano ma il giornissimo Cepriolo se mi piace e c'è chi mente Grazie a tutti.